Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione della TG6. Apriamo con la cronaca. Un giovane di 28 anni, Dario Salvati di Casa Candinella, nel Chietino, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 263. Il giovane, che era alla guida di un grosso scutere che indossava il casco per cause al vaglio dei carabinieri, ha tamponato il furgone condotto da un cittadino marocchino di 48 anni. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Francavilla al mare. L'incidente è accaduto in un tratto rettilineo per Salvati, che lavorava nell'azienda tessile di famiglia. Quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare. Sul posto è giunta l'ambulanza del 118 unitamente ad un elicottero, che però, quando si è accertato il decesso, non è stato fatto atterrare. Guardia di Finanza e Polizia di Chieti hanno portato a termine un'operazione che si è conclusa con 21 persone denunciate, di cui 8 arrestate, con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Capo dell'organizzazione, un imprenditore pescarese, noto alle forze dell'ordine, Mauro Mattucci. Un'evasione di 6 milioni di euro e fatture falsificate per 13 milioni. L'attività criminale puntava ad ottenere società con difficoltà di liquidità, ricorrendo in alcuni casi anche alla violenza fisica. Il servizio di Francesca Romana Tessi. Una vera e propria organizzazione criminale, l'operazione Viribus Unitis, che ha visto insieme Polizia e Guardia di Finanza di Chieti, ha smantellato il gruppo criminale facente capo a Mauro Mattucci. 21 persone denunciate, 3 arrestati oltre a Mattucci, 2 uomini considerati braccio e mente, Giuliano Capurri e Antonio Gentile. 5 persone invece finite agli arresti domiciliari e 13 denunciati a piede libero, oltre all'interdizione di due figure indispensabili ai fini criminali. Si tratta di due commercialisti, Antonio Cristofanelli e Lara Martini. Praticamente loro entravano in società, in imprese già in crisi, e li svuotavano dei loro beni, occultandone le scritture contabili e destinandole quindi al fallimento. Poi venivano trasferite tramite l'aiuto di alcuni commercialisti all'estero, intestando al loro prestanomi e così anche tramite le emissioni di fatture per operazioni insistenti si sono creati dei crediti di imposta, arrivando a frodare il fisco per circa 6 milioni di euro. Un sistema ben congeniato che ha permesso al Mattucci un'evasione che supera i 6 milioni di euro, con un totale di fatture false che ammontano a 13 milioni di euro. In Italia purtroppo chi froda il fisco non viene ancora considerato come un criminale in tutti i sensi, quanto invece lo è, assolutamente, perché frodare lo Stato significa frodare la collettiva, tutti quanti noi. In questo momento particolare di crisi, secondo me, le sanzioni vigenti andrebbero applicate nella loro integrità. Le persone denunciate dalla Procura della Repubblica di Chieti dovranno rispondere a vario titolo del reato associativo finalizzato alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta per distrazione. Inoltre è stato disposto il sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta evasa di 43 rapporti bancari e 48 unità immobiliari riconducibili a società e persone indagate, tra le quali la villa di proprietà di Mauro Mattucci. Si parla in alcuni casi di imprenditori che sono stati minacciati e è stata usata anche violenza? C'è stata una capacità intimidatoria sicuramente. Tra le società finite nell'operazione delle forze dell'ordine è anche un noto locale del Pescarese, il Tortuga, che non verrà però chiuso per evitare la perdita dei posti di lavoro. È stato infatti nominato un amministratore controllato. Abbiamo sequestrato diversi conti correnti, decine di conti correnti, sia state persone fisiche che a società. Decine di immobili sono stati sequestrati, compreso anche un punto stabilimento del Tortuga, che comprende appunto stabilimento balneare con un locale di intrattenimento notturno e il ristorante connesso. La procura di Teramo ha aperto ufficialmente un fascicolo sulla morte della ragazza i cui resti sono stati rinvenuti ieri mattina sulla corsia d'emergenza dell'A14 in direzione nord a confine tra Giulianova e Mociano. Secondo quanto si apprende per la procura, titolare del fascicolo, il PM Irene Scordamaglia, al momento non ci sarebbero elementi tali da far archiviare la vicenda come suicidio, tanto che non verrebbe esclusa alcuna ipotesi. Al momento c'è massimo riservo sull'ipotesi di reato con il quale è stato iscritto il fascicolo con gli investigatori che vogliono fugare ogni dubbio su quanto successo nella notte tra lunedì e martedì. Tanti gli aspetti della vicenda da chiarire, a partire da come la vittima sia arrivata sul luogo della tragedia, allo stato attuale non ci sarebbe inoltre nemmeno un'identificazione certa sull'identità della vittima, i genitori della ragazza infatti di cui era stata denunciata la scomparsa avrebbero riconosciuto solo una scarpa troppo poco per stabilire con certezza che si tratti proprio della figlia. Per questo si aspettano i risultati dell'esame del DNA che dovrebbero rientrare tra alcuni giorni. Sulla vicenda sta indagando anche il COA di Pescara che sarebbe verificando l'ipotesi che la ragazza sia arrivata sul luogo della tragedia insieme a qualcun altro. Bliz della Polizia Municipale di Pescara nei giardini che separano Corso Vittorio Emanuele dall'autoparco della stazione centrale. Elevate 8 sanzioni da 50 euro a senza tetto ed extra comunitari per bivacco in area pubblica e a cattonaggio. Alfredo Primante. Sporcizia e degrado in pieno centro città a due passi dalla stazione centrale, da quella dei Pullman e da Corso Umberto. La Polizia Municipale di Pescara assieme agli operai di Attiva è intervenuta questa mattina a partire dalle 8 per sgomberare e pulire l'area dei giardini che costeggiano Corso Vittorio e ai cui margini c'è il muro che ricorda i bombardamenti del 1943 su Pescara. All'interno del giardino c'era di tutto, dai passeggini alle macchine del caffè, dai fornelletti da campo ai sacchi a pelo, dai vestiti agli escrementi, un vero e proprio dormitorio a cielo aperto. Ma quell'aria è pericolosa, soprattutto al calar della sera, ed è questa la lamentela principale di negozianti residenti della zona esasperati da una situazione che si trascina da anni. Nel ricorso del blitz la Municipale Pescarese ha elevato 8 verbali per accattonaggio e bivacco abusivo, sanzioni da 50 euro, insufficienti a costituire un vero e proprio deterrente che assicuri la fruibilità del parco, soprattutto perché coloro che bivaccano sono senza tetto o extracomunitari. Quello della sicurezza delle aree verdi è e resta un problema molto sentito a Pescara. Spesso in primo piano nelle cronache ci sono i problemi della pineta d'Annunziana, a sud della città, dove tempo fa avevamo documentato aree di sporcizie e degrado, soprattutto nei comparti meno frequentati da chi si reca nella pineta per passeggiare o per trovare riparo dalla calura estiva. Ora l'area dei giardini della stazione sarà rimessa a disposizione della città, ma il vero tema è come garantire che, effettuata la pulizia, non si torni in breve allo stato di partenza. Una donna di 68 anni, di Castiglione Messerraimondo, è ricoverata con ustioni di secondo grado su oltre il 50% del corpo dopo essere stata colpita dall'esplosione di un vecchio congelatore a colonna che si trovava all'interno di una cantina cucina della sua abitazione colonica. E' però mistero su cosa abbia innescato l'esplosione e l'incendio di tre dei cassetti del frigo, ma soprattutto come la donna sia stata colpita dalla fiammata che le ha provocato le pesanti conseguenze al tronco, agli arti e al volto. E ci spostiamo all'Aquila e cambiamo argomento dopo la minaccia di ritorno anticipato alle urne. Da parte del sindaco Massimo Cialente i partiti della maggioranza cercano di ricomporre gli attriti. Il Partito Democratico invita al senso di responsabilità socialisti e rifondazione e chiedono però una verifica programmatica al servizio della redazione dell'Aquila. Ritorno anticipato alle urne? Il sindaco Massimo Cialente è arrivato a minacciarle, esasperato dai continui conflitti interni alla sua maggioranza. Ma in pochi credono che faccia sul serio, tanto che il Partito Democratico oggi prova a gettare acqua sul fuoco invita in particolare i socialisti italiani e la rifondazione comunista al senso di responsabilità perché le elezioni anticipate, uno dei momenti più critici della ricostruzione post-sismica, avrebbero davvero del clamoroso. Ci sono stati dei movimenti, dei contatti, dei colloqui tra i vari partiti, delle riflessioni e è chiaro che rimangono ancora aperti dei nodi. Da parte mia, quindi come capogruppo del Partito Democratico, la volontà e l'intenzione è quella appunto di fare chiarezza in merito a quanto successo e cercare di vedere, di verificare se ci sono le condizioni per trovare una quadra e ripartire con più forze prima perché è chiaro che abbiamo di fronte ancora un anno e mezzo e che dobbiamo affrontare con la massima serenità e convinzione. La rifondazione comunista ha intanto ieri tenuto un'assemblea che ha dettato la linea e posta alla maggioranza, come condizione per annodare la crisi, una verifica programmatica e l'accoglimento di alcuni punti per rifondazioni rinunciabili. Abbiamo stabilito all'unanimità, perché gli orientamenti all'interno sono contrastanti, di sottoporre al sindaco e alla maggioranza di centrosinistra nei prossimi tavoli che ci saranno in questa settimana e nella prossima settimana una serie di punti programmatici per noi molto importanti. Punti principali? Punti principali, intanto la questione ambientale che è emersa sul Gran Sasso ma emerge anche su altre questioni. Poi le questioni sociali dietro agli sfratti dei morosi del progetto Gase per i quali chiediamo un intervento straordinario sul sociale e altre questioni sulla trasparenza e la partecipazione. Il malumore dei socialisti che sostengono con un piede fuori e uno dentro la maggioranza e anche in questo caso si invita il sindaco Massimo Cialenta a prendere in considerazione le loro proposte. In questo momento non ci sta bene la mancanza di coinvolgimento da parte del sindaco Cialente e soprattutto su alcune delibere come questa qui delle utenze condominiali e dei progetti Gase e dei MAP come il non rispetto dei programmi rimandati sul settore dello sport oppure quello relativamente all'uso civico. E sempre nel comune di L'Aquila esplode la polemica tra il consigliere comunale Giorgio De Matteis e l'assessore Lelio De Santis sugli oltre 12 milioni di euro di debiti fuori bilancio che, accusa l'opposizione, compromettono la validità della manovra finanziaria appena approvata. Sentiamo. Bilancio farlocco al comune dell'Aquila che non tiene conto di milioni e milioni di debiti fuori bilancio ignorati per far tornare i conti e che ora però renderanno inevitabile l'intervento della Corte dei Conti. Ad assicurarlo il consigliere comunale dell'Aquila città aperta Giorgio De Matteis a cui replica però stizzito l'assessore al bilancio Lelio De Santis che assicura che tutto sotto controllo quei debiti hanno già copertura con degli accantonamenti. Oltre a 6 milioni in fase di accertamento catasse di fatture nevase e molte ingiallite dal tempo tra i debiti, su questo tutti concordano anche altri 6 milioni di euro dell'utenza non pagate dagli sfollati del progetto case. A coprire il debito all'Enel sono state le banche che ora abbattono cassa al comune che dovrà sborsare rate da 250 mila euro al mese per i prossimi anni. Si trattava di un bilancio falso quello che ci è stato apportato. Questa mattina, come era prevedibile, apprendiamo inopinatamente che siamo già a 6 milioni di debiti fuori bilancio che stranamente, prima dell'approvazione del bilancio non erano stati comunicati e quindi ovviamente devono essere riconosciuti e graveranno sulle tasche degli aquilani. Quindi le grandi lodi che si è sbrodolato addosso il sindaco Cialente cadono in maniera miserabile già questa mattina a 7-8 giorni all'approvazione del bilancio. Quei debiti fuori bilancio sono coperti già perché il comune ha accantonato con l'avanzo di amministrazione non i 6 milioni di cui si sta parlando che stanno per essere riconosciuti ma 33 milioni. E poi c'è il nodo debiti prodotti anche dai mancati pagamenti delle bollette al progetto casa. Ma questo è un debito che si è accumulato a seguito dell'amorosità. C'è stato questo contenzioso con tanti cittadini e con i comitati che invia di soluzione. È chiaro che il debito che si è accumulato intorno a 6 milioni va onorato. Il progetto casa e le case sono patrimonio del comune. Illustrati oggi all'Aquila i due referendum che chiedono di rivedere i confini del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga e la riduzione delle aree di interesse comunitario che con i loro vincoli strettissimi sostiene il comitato promotore impediscono il piano di sviluppo degli impianti sciistici di campo imperatore e di altre attività economiche. La rimodulazione dei confini del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga nelle aree pedemontane e antropizzate del versante aquilano. La riduzione dell'estensione dei 1.500 etteri di area di interesse comunitario i SIC dove i vincoli ambientali sono massimi in particolare a Monte Cristo e Fossa di Paganica dove sono previsti investimenti da 40 milioni di euro per realizzare tre nuove cabinovie per l'ammodernamento degli impianti sciistici di campo imperatore. Questo il contenuto dei due quesiti che in primavera potrebbero essere sottoposti al voto degli aquilani illustrati oggi dal coordinatore del comitato promotore del referendum Luigi Faccia e dei membri Gianluca Museo e Fasso Tatone. Prossimo passaggio la Costituzione del Collegio dei Garanti che dovranno decidere sull'ammessibilità dei quesiti poi se ci sarà l'ok 90 giorni di tempo per raccogliere 5.000 firme a quel punto il referendum. Se vinceranno i sì il Consiglio Comunale dovrà approvare un atto di indirizzo che impegnerà il sindaco a muoversi presso Regione, Ministero dell'Ambiente e Comunità Europea. Anche noi siamo ambientalisti spiegafaccia ma quei vincoli così stretti in aree antropizzate sono un danno favoriscono lo spopolamento delle frazioni pedemontane per non parlare delle aree SIC a Campo Imperatore che bloccano ogni tipo di intervento condannando a morte gli impianti scistici ed un'economia della montagna che creano nonostante tutto centinaia di posti di lavoro. Quali sono i quesiti dunque? Sono due uno verte su una rimodulazione tecnica del Parco Gran Sasso e della zona speciale di protezione la 0 APS e l'altro verte principalmente sui SIC rimodularli in modo da non comprendere le zone antropizzate e le zone di interesse economico e sociale. L'ente dettoriale può proporre agli enti preposti la variazione è un atto di indirizzo il referendum dà un atto di indirizzo al Consiglio Comunale che deve esprimersi il Consiglio Comunale entro 60 giorni dal risultato. E in tempo di crisi si pensa alle famiglie in difficoltà e così SEL a Pescara ha avviato il servizio gratuito di sostegno scolastico agli studenti in difficoltà tutto grazie alla disponibilità di insegnanti che offriranno gratuitamente le proprie competenze ascoltiamo. Nelle difficoltà economiche delle famiglie la scuola rappresenta sempre un costo molto significativo ma spesso tra le spese per l'istruzione può servire l'aggiunta di quelle destinata alle ripetizioni nel caso in cui sia necessario un sostegno magari anche di breve durata un costo che di certo scoraggia molte famiglie già in crisi per un diritto quello allo studio che sembra sempre più un privilegio e così di SEL organizza a Pescara un servizio di sostegno gratuito per gli studenti per Sinistra Ecologia e Libertà Pescara l'accesso alla conoscenza e alla cultura è indispensabile per poter interpretare correttamente questo mondo noi ci operiamo attraverso degli insegnanti volontari che offrono il loro tempo gratuitamente per dare ripetizioni gratuite individuali agli studenti che ne hanno necessità in Via Piave 129 per iscriversi l'iscrizione ovviamente gratuita per iscriversi basta andare sul sito selpescara.org e contattare la nostra segreteria e i ragazzi che sono in condizioni di bisogno potranno soffrire di questo servizio in maniera gratuita un servizio già attivo dunque rivolto a studenti prevalentemente delle scuole superiori con la possibilità di ricevere sostegno sia nelle ore del mattino che in quelle del resto della giornata il tutto grazie alla disponibilità gratuita degli insegnanti che hanno risposto all'appello di SEL questo servizio è rivolto prevalentemente ma non esclusivamente ai ragazzi e alle ragazze che fanno le scuole superiori ma anche agli adulti che fanno corsi serali per esempio ed ora la pagina degli appuntamenti la settembrata pescarese torna in città con la 58esima edizione del festival della canzone abruzzese nella serata finale della 6 settembre si esibiranno i 5 cori folkloristici finalisti è una delle associazioni più antiche di Pescara la settembrata torna in città il 6 settembre con il 58esimo festival della canzone abruzzese che si svolgerà ai colli nello spazio di Largo Madonna nel corso della manifestazione aperta le 19 dalla sfilata dei cori folkloristici si esibiranno i 5 cori finalisti scelti dalla giuria nel corso del festival che ha girato l'Abruzzo e che ha visto la partecipazione di 16 gruppi con altrettante nuove canzoni provenienti da tutta la regione per il settore teatro invece sotto la guida di Antonio Luise la settembrata sta portando avanti un progetto che prende spunto da un adattamento di Ghigo De Chiara delle novelle della Pescara di Gabriele D'Annunzio a settembre iniziano i casting per la partecipazione alla messa in scena della pièce che sarà diretta da Danilo Volponi un'associazione storica riconosciuta dalla presidenza del Consiglio Comunale di questo ci teniamo non tanto come ambizione personale ma come patrimonio e dote di una città pescara che col tempo si è fatta veramente le ossa e sta sorgendo da una città dinamica certo i tempi sono duri e come si suol dire quando i tempi si fanno duri i duri cominciano a lottare e allora vuol dire che chi ha buoni intentimenti degli obiettivi chiari delle finalità concrete continui il suo percorso dal 3 al 6 settembre torna invece a Floriano di Campli la festa della birra l'evento giunto alla seconda edizione propone assaggi di etichette nazionali e internazionali e degustazioni di prodotti tipici una manifestazione che torna dopo l'ottimo riscontro di presenze registrato lo scorso anno quest'anno con quali eventi in programma? ma quest'anno diciamo che gli eventi che abbiamo programmato rispettiano quelli che avevamo fatto l'anno scorso ci saranno delle novità sul lato musicale che di sera ci saranno vari gruppi che si si birranno nella serata inoltre assaggi di etichette nazionali e internazionali e degustazioni di prodotti tipici ci sono varie birre nazionali e internazionali e ci sono la degustazione di pietanze come viuster e crauti abbiamo pure fatto la bistecca con la marchigiana che è un piatto prelibato che avevamo già fatto nella precedente edizione la seconda edizione sicuramente è un grosso successo che speriamo di avere anche quest'anno quindi invito tutti a partecipare si potranno degustare i prodotti tipici salsicce rosticini e logicamente bere birre nazionali e internazionali quindi è un'iniziativa molto importante come diceva ne abbiamo fatte tante questa diciamo è l'ultima e speriamo che avremo un grosso successo gli stand saranno aperti tutte le sere a partire dalle 19 sì a partire dalle 19 e anche in caso di pioggia perché ci sono dei tendoni a Gesso Palena invece il 5 e il 6 settembre si svolgerà la nona edizione di Buon Gusto una rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio Gesso Palena ed il Buon Gusto la sua nona edizione un appuntamento che cresce di anno in anno e regala autorevolezza alle eccellenze del territorio anche quelle rare e introvabili offrendo al pubblico abbinamenti studiati per esaltare al massimo i sensi miele, vino e tutta la maestria degli esperti di settore in particolare la nostra rassegna prevede solo formaggi e salumi pochi abbinamenti quelli mirati al miglior utilizzo possibile dei formaggi e dei salumi in cucina o comunque nel mondo enogastronomico quindi vini abbinamento a vini a mieli e ad altre piccole delizie del nostro mondo rurale due giorni di festa che regaleranno anche uno spettacolo autoctono dopo quello dei prodotti ad animare le due serate saranno gruppi e musicisti del posto una nota che rende ancora più caratteristica l'intera manifestazione in nome dell'amore per il proprio territorio i formaggi sono sicuramente una delle nostre eccellenze che riportano una marea di diversità ogni contrada ogni piccolo paese ha il suo tipo di formaggio a Gessopalena troviamo una sorta di macro negozio che raggruppa tutte le tipicità di formaggi esistenti che sono difficilmente rintracciabili nei negozi anche di prodotti tipici che troviamo in zona Passiamo ora alla pagina sportiva con il Pescara Calcio squadra già al lavoro per preparare la trasferta in casa del Livorno all'Ardenza il tecnico Oddo dovrà fare a meno di molti titolari fra squalifiche e infortuni intanto domani alle 11 all'hotel Carlton ci sarà la presentazione del Memorial Civilia sarà presente fra gli altri il presidente della Pescara Daniele Sebastiani il servizio di Paolo Renzetti Pochi giorni solo 4 per la precisione e poi la lunga attesa sarà finalmente terminata con la parola che passerà al campo domenica 6 settembre alle 15 il Pescara targato Massimo Oddo farà il suo attuese sordio in campionato nell'insidiosa trasferta dell'Ardenza di Livorno il primo fra i tanti ostacoli non da poco di questo avvio di campionato che almeno sulla carta si presenta tutt'altro che agevole all'Armando Picchi le insidie per il Delfino non saranno legate solo al valore dell'avversario che nelle ultime ore di mercato si è rinforzato anche con gli arrivi dell'ex Pasquato di Cazzola e Bunino ma anche dalle numerosissime defezioni con cui dovrà fare i conti il tecnico Biancazzurro Mister Oddo dovrà infatti rinunciare sicuramente ai nuovi arrivati Verra e Mandragora convocati dal CT di Biaggio per la nuova Under 21 dagli Azzurrini Vitturini e Cappelluzzo chiamati rispettivamente in Under 19 e Under 20 agli squalificati Mignanelli Lapadula e Torrera e agli infortunati Valotti e Memushai l'ex veronese in verità ha qualche chance per recuperare ma al massimo potrebbe trovare posto in panchina e all'albanese è legato invece il giallo delle ultime ore Memushai infatti infortunato di lungo corso addirittura le voci lo davano prossimo ad un'operazione in artroscopia alla caviglia sinistra per risolvere un problema con cui il centrocampista albanese convive da mesi e che comporterebbe uno stop di due mesi ma Memushai risultava ieri nella lista dei convocati di ramata dal CT albanese Gianni De Biasi per le prossime gare valide per le qualificazioni agli europei ad ogni modo Mister Oddo dovrà fare di necessità virtù e a questo punto nell'11 anti Livorno sono quasi certi l'avanzamento di Zuparic a centrocampo e gli esordi sempre in mediana del nuovo acquisto Benali e del giovane Paolucci in dubbio anche la presenza dell'ultimo arrivato Campagnaro che si presenterà in Abruzzo nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto intanto domani alle 11 presto l'hotel Carlton a Pescara ci sarà la presentazione del Memorial Pietro Sibilia saranno presenti fra gli altri il patron del Pescara Daniele Sebastiani e l'ex vice presidente Antonio Liveri e dopo il trauma della revoca della serie B al Teramo l'esterno Luca Di Matteo e il centrale Michele Rigione hanno trovato subito sistemazione a Lanciano in maglia Virtus i due giocatori resteranno in cadetteria e ringraziano il tecnico Teramano Vincenzo Vivarini per il lavoro svolto finora seppur dicono in condizioni mentali molto difficili vediamo il servizio di Alessio Giancrissofaro Luca Di Matteo pochi chilometri perché fino a qualche giorno fa eri a Teramo ora a Lanciano innanzitutto benvenuto le prime impressioni frentane quali sono? grazie per il benvenuto ma le prime impressioni sono molto positive diciamo che la maggior parte del gruppo riconoscevo già e quindi mi sono subito trovato diciamo a mio agio Luca è inevitabile non parlare di Teramo? ma sicuramente mi sono trovato benissimo perché ho trovato un gruppo fantastico e un mister preparatissimo e che lo voglio ringraziare personalmente perché mi ha dato tanto e niente la situazione praticamente l'avete visto anche voi non è stata delle migliori abbiamo fatto un campionato strepitoso abbiamo stravinto però purtroppo la giustizia ha tolto tutto quello di bello che avevamo fatto e questo ci ha ci ha rammaricato tanto e non è stato nemmeno facile lavorare un mese in ritiro con questo pensiero che andava sempre alle cose extracalcistiche però alla fine è stato bravo anche il mister ci siamo compattati e siamo riusciti a fare un buonissimo ritiro Luca per concludere tu tecnicamente come ti metti in campo a disposizione di Taversa? ma io negli ultimi anni ho giocato dappertutto quindi sono abbastanza tuttile mi metterò a disposizione del mister dove deciderò dove mettermi giocherò sono sicuramente gente che ha campionati sulle spalle importanti proverò a giocare con loro e speriamo venga fuori un bel lavoro a livello di moduli 4 in difesa 3 in difesa per regione è tutto uguale? no è uguale ho ricoperto sia la difesa 3 che la difesa 4 per me è uguale Michele fisicamente come stai? già pronto per la sfida di Vercelli? sì sì ho sempre lavorato con la squadra il ritiro è stato sicuramente un ritiro dal punto di vista mentale difficile però comunque è stato bravo il mister Pivarini a tenerci tutti sul pezzo e farci lavorare bene il campionato va sospeso se qualcuno ha provato a combinare la partita va punito e anche severamente maleventuale presunto coinvolgimento di altri senza prove su indizi peraltro non concordanti non può condannare una squadra una città un popolo a chiederlo il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi con una lettera aperta agli organi calcistici nazionali dopo la condanna da parte della Corte d'Appello Federale alla revoca del titolo appunto di Serie B conquistato dal Teramo per la presunta combina della partita Savona-Teramo del 2 maggio senza se senza ma Teramo ha vinto sul campo scrive il sindaco Brucchi mentre altre squadre vincevano troppe volte in zona Cesarini il Teramo macinava gioco e punti Teramo ha battuto le sue rivali sul campo mentre le rivali hanno dimostrato di essere più brave con le carte bollate lo ha detto anche il CONI aggiunge il sindaco di Teramo anche nella giustizia sportiva ci vogliono prove tornando a definire aberrante contraddittoria la sentenza di secondo grado il primo cittadino ha criticato la mancata pubblicazione anche delle motivazioni che avrebbero dovuto seguire il dispositivo e intanto verrà ufficializzato sabato nel corso di una conferenza stampa il nuovo organigramma societario del Teramo dopo la sentenza appunto della Corte d'Appello Federale ci sarà un presidente onorario che sarà Ercole Cimini ma anche un amministratore delegato con potere di firma da sciogliere anche definitivamente il nodo della guida tecnica visto che il tecnico Vincenzo Vivarini vuole prima parlare con la società il servizio di Alfredo Giovannozzi in attesa della decisione del collegio di garanzia del CONI di domani il Teramo deve soprattutto pensare a quelle che sono le problematiche logistiche pratiche innanzitutto c'è una società decapitata senza una carica presidenziale il problema sarà risolto a brevissimo con la presidenza onoraria che andrà ad Ercole Cimini attualmente vicepresidente ed è stato proprio lui a firmare il ricorso al collegio di garanzia del CONI un segnale questo che i due cugini non molleranno di un millimetro Cimini e Campitelli e Campitelli e Cimini è sempre stato così nella vita professionale e lo sarà ancora nel calcio Cimini però non avrà il potere di firma che andrà nelle mani di un amministratore delegato unico che sia sarà annunciato sabato e sarà un importante imprenditore che presenta ampie garanzie di serietà e di attaccamento alla società insomma Campitelli potrebbe utilizzare la mossa per coinvolgere altre persone nella gestione del Teramo c'è soprattutto da sciogliere il nodo che riguarda il direttore sportivo attualmente a fare le veci di Marcello Di Giuseppe e Morris Molinari ma l'ex giocatore del Teramo non avrebbe i titoli per ricoprire il ruolo vale a dire non sarebbe nell'elenco dei direttori sportivi ne arriverà un altro? potrebbe essere così ma la figura di Gianluca Scacchioli sarebbe determinante a caldo subito dopo l'esplosione della vicenda Campitelli ha contattato di nuovo Massimo Cerri ex capitano storico del Teramo e molto legato alla città e alla tifoseria Cerri aveva da poco però raggiunto l'accordo con il Piacenza dove ricopre il ruolo di direttore sportivo ma il dubbio da chiarire al più presto resta quello dell'allenatore Vincenzo Vivarini per tutti resta la guida del Teramo ma quanto detto ieri qualche dubbio lo ha insinuato ma che devi dire c'è solo grande tristezza grande delusione c'è poco da dire Vivarini resta a Teramo ma vediamo dai d'altra parte l'allenatore di Ari in questa vicenda è una delle parti lese e bisognerà vedere quanta fiducia ha ancora nel Teramo le risposte definitive ci saranno comunque sabato quelle del campo dovranno aspettare ancora una settimana è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti